salve amici e amiche apro il video di oggi con la schermata di flight radar 24 che ci mostra i voli militari sui cieli d'europa almeno sul mediterraneo e nella zona che ci interessa sopra i cieli ucraini tra l'altro vediamo in tempo reale il tracciato di un boeing p8 poseidon che è un pattugliatore marittimo della nato partito da sigonella come vedete e che è in volo da un bel po facendo i suoi pattern di scoperta in questo momento sta facendo un pattugliamento di quest'area indicativamente fra l'altro cosa interessante possiamo zoomare vediamo che sotto di lui ci sono due voli militari sempre degli stati uniti con un black hawk entrambi che stanno facendo operazioni in quest'area non sappiamo di cosa si tratta ovviamente poi ci sono altri voli di trasferimento logistica trasporti questo un c 130 decollato poco fa questa è la situazione per i voli che possiamo vedere in medio oriente come vediamo sempre le operazioni inglesi sono molto intense nella nell'ambito del medio oriente in questo momento due euro fighter inglesi sono o hanno appena finito o stanno per approcciarsi dalla posizione a sinistra del tanker suppongo che abbiano finito il rifornimento in volo probabilmente in rientro presso la base di acrotiri che è una fondamentale base raf per tutto il medio oriente sull'isola di cipro di rientro qui vediamo un altro tanker no e sta operando sempre in zona insomma si capisce da questi voli logistici che l'attività è piuttosto importante allora in italia fra l'altro ci sono anche oggi voli di pattugliamento e trasferimento anche questo è un hercules c 130 in arrivo dall'irlanda un mb 346 in addestramento in sardegna insomma questa è la situazione allora perché sono partito da flight radar oggi non tanto per guardare la situazione nei cieli europei ma per dare un'occhiata a quello che sta succedendo in america e che ha influenzato anche il summit rammstein che è stato praticamente ridimensionato dato che il presidente degli stati uniti e il segretario della nato non vi parteciperanno questo a causa del della dell'emergenza meteo presente e negli negli stati uniti soltanto pochissimi voli vediamo in quest'area adesso provo ad applicare anche i filtri ai velivoli passeggeri e cargo e vediamo che ci sono tutta quest'area dove non volano aerei civili ci sono delle zone vuote questo perché vi mostro questa bellissimo questo bellissimo video preso dalla stazione spaziale internazionale c'è l'uragano in corso nel golfo del messico che sta per colpire colpirà almeno nelle prossime 24 ore colpirà la florida al momento è di un intensità quasi di 5 sulla loro scala dovrebbe essere al massimo 4 e in fra 4 e 5 e si prevede che nelle prossime ore debba ridursi a una scala di 3 quindi con minore potere distruttivo in questa sequenza vediamo fra l'altro dragon attraccato alla stazione spaziale internazionale come vedete quindi c'è allora fra l'altro faccio una precisazione perché in alcuni commenti ho letto delle osservazioni a proposito di alcune foto che ho postato che sembrano secondo alcuni sembravano artefatte ora guardando questa questo ferma immagine cosa notate la sfericità della terra giusto in realtà no nel senso quando si fanno foto o video bisogna sempre considerare che cosa fa la foto e cosa fa il video un errore comune che molti ci cascano è quello di pensare che le aberrazioni almeno si chiamano così le aberrazioni delle lenti coincidano con la curvatura terrestre ovviamente per fare questa foto dalla stazione spaziale per fare questo video è stato utilizzato quello che viene chiamato comunemente grand'angolo il grand'angolo è un obiettivo con una grande apertura che permette di fare una foto molto panoramica però il contro è che prendendo tanti gradi deve un po' distorcere l'immagine quindi qui in questa immagine vediamo sì la curvatura terrestre ma è molto molto distorta le lenti non sono mai perfette nel senso per poter ottenere tanti gradi di apertura in qualche modo devi sacrificare e questo sacrificio è un errore dovuto alla progettazione della lente che poi anche in condizioni di spazio devono avere dei requisiti devono insomma a livello ingegneristico ci sono tanti compromessi quando si costruiscono le lenti per dirle in modo semplice di conseguenza questi errori si chiamano aberrazioni e l'effetto di distorsione che si vede nei grand'angoli è chiamata appunto aberrazione della lente è molto difficile trovare sono molto molto costose delle lenti che riducono questi effetti in alcuni casi poi sono voluti se prendiamo per esempio le piccole camere come le gopro ci mostrano questo effetto fisheye praticamente a bolla che copre tanti gradi però allo stesso tempo distorce un poco bene allora per mostrarvi sempre da un altro punto di vista satellitare questa è un'immagine a infrarossi dell'uragano milton credo che si chiami sì che attualmente sa in cat 5 a 180 miglia orarie di velocità e si sta muovendo verso est quindi è una situazione piuttosto critica negli stati uniti fra l'altro molti complottari i classici cospirazionisti hanno iniziato a parlare di influenze climatiche di del fatto che questi questi uragani sono stati generati intenzionalmente da bene ok comunque se vi chiedete com'è volare in un uragano questo è un video che ci mostra degli operatori di questa postazione meteo su ali volante americana devi avere proprio gli zebedei quadrati per non avere paura su un aeroplano così si balla un pochino ci sto un po a un a 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 perché dici questo gli ha chiesto l'intervistatore perché è impossibile uscire dall'atmosfera dice lui la terra è tonda o piatta non sono sicuro risponde lui potrebbe essere piatta potrebbe la terra è piatta o piatta la terra è piatta o tonda beh lui dice tu la sai la risposta dimmela tu io penso che la terra sia tonda risponde l'intervistatore dal classica risposta l'intervistatore dice io penso che la terra sia tonda e il tizio dice perché hai visto le fotografie della nasa giusto ok e tu lo sai che quelle sono foto costruite con la computer grafica vero ho sentito della grafic computer grafica risponde l'intervistatore il tizio risponde io penso nella descrizione della bibbia del cielo sopra la terra quindi lui crede a quello che dice la bibbia allora scusate allora questa cosa in realtà può essere ridicola chiaramente tutti sappiamo che la terra è tonda ma perché lo sappiamo la risposta semplice è per una forma di intuizione cioè senza fare calcoli senza a fare un approccio scientifico nel nostro vivere quotidiano da migliaia di anni gli esseri umani hanno sviluppato questa forma di consapevolezza ma perché è molto semplice perché se tutti allontani per esempio dalla costa la costa inizia a sparire dopo cinque chilometri lo stesso per le montagne le vediamo scomparire oltre l'orizzonte se ci allontaniamo e questa è una semplice osservazione che avviene naturalmente camminando è chiaro che una persona che non si allontana mai dal proprio paese e non vede il mondo difficilmente arriverà a certe conclusioni però in qualche modo ecco nell'immaginario collettivo c'è la consapevolezza che la terra è tonda quindi bisogna in qualche modo contestare l'immaginario collettivo però la domanda in realtà è interessante perché molti dei cospirazionisti che parlano dello spazio della nasa che secondo loro noi siamo portati a credere che la terra sia tonda per le fotografie della nasa non sanno che in realtà non è praticamente mai esistito un momento storico in cui l'uomo ha creduto che la terra fosse piatta bisogna un po' sfatare questo mito se vi interessa vi passo questo link a questo articolo che ricalca un po' quello che molti hanno detto in cui fa una ricerca storica dei testi in cui si è cercato qualche testo qualche fondamento sulla convinzione che la terra fosse piatta ora è chiaro che più andiamo lontano meno si trova però già dall'antica grecia da circa il sesto secolo avanti cristo già si sapeva con studi matematici che la terra era tonda fra l'altro sono state raggiunte delle buone approssimazioni sulla circonferenza del pianeta e questo insomma è stato fatto nell'antica grecia fra l'altro in tutte le rappresentazioni anche successive del medioevo il medioevo non è un periodo oscuro come quello che molti credono in realtà è stato un periodo anche colto dove si continuavano gli studi e comunque si prendevano anche gli studi classici si portavano avanti iniziavano alcune ricerche e nell'iconografia del medioevo la terra non è mai piatta è sempre tonda tipo vi mostro queste immagini vedete ci sono le persone a testa in giù da una parte e dall'altra nord e sud quindi è proprio sbagliato pensare che nel passato esistesse una convinzione che la terra era piatta fosse piatta è chiaro che poi ci sono state delle eccezioni allora fra l'altro non mi ricordo chi ha detto fra l'altro che era si credeva che gli stupidi credessero che la terra fosse piatta già nel medioevo però ecco c'è stato un momento in cui per esempio il cristianesimo ha voluto mettere in discussione tutti i testi precedenti specialmente quelli romani e greci quindi nel primo periodo del cristianesimo in epoca romana quando i cristiani si riunivano nelle catacombe cercarono di sviluppare una propria letteratura in qualche modo dedotta dalla bibbia perché la bibbia è l'unico testo in cui si parla di quattro angoli della terra ma non parla di sfericità e non parla di piattezza dice semplicemente c'è una frase della bibbia che parla ecco qui non si parla chiaramente della terra ma solo dei cosiddetti quattro angoli della terra quindi ragionamento molto semplice se quattro angoli vuol dire che è quadrata quindi sulla base di questa logica i cristiani svilupparono una sorta di rappresentazione della terra come una sorta di tabernacolo una scatola dove il fondo era la terra il cielo era il era piatto il cielo insomma tutto racchiuso in una sorta di scatola divina però è chiaro che questo non era solo una teoria religiosa completamente smontata poi dai fatti e dagli studi e tra l'altro con le esplorazioni del medioevo si sapeva già benissimo che la terra era tonda lo stesso cristoforo colombo sapeva esattamente che la terra era tonda diciamo che cercò di imbrogliare un po' quando presentò il suo progetto per raggiungere le indie che tra l'altro qui bisogna sfatare il mito indie sono un discorso indiani sono un altro perché nel senso gli indiani d'america venivano chiamati indigos cioè locali vuol dire però comunque cristoforo colombo aveva già una stima molto precisa della circonferenza terrestre e vuole un po' gabbare il suo committente dicendogli che era più piccola si aspettava di arrivare in india ma in realtà tutti cercavano una terra al di là dell'oceano e questo è insomma ho divagato abbastanza però vi passo questo link se vi interessa andiamo avanti qualche giorno fa vi avevo presentato l'evento di questa quasi mancata collisione fra un caccia russo e un americano nei cieli dell'Alaska ne ha parlato anche Fox News la CNN ovviamente ha dato parecchio fastidio agli americani questo atteggiamento questo comportamento è stato commentato insomma in maniera piuttosto come una manovra troppo aggressiva e pericolosa questo è il video originale scusate l'audio scusate scusate questo è il video originale ne ho lette di tutti i colori nei commenti del tipo che l'F16 era troppo vicino al Tupole F95 vale non è vero era una scorta molto semplice che l'aereo russo aveva tutto il diritto di farlo sbagliato la verità è che insomma è stata una bravata che poteva costare la vita a entrambi i piloti e non è di certo così che dimostri la bravura sul fatto poi che gli Stati Uniti non avevano nessun diritto di avvicinarsi all'aereo russo non è vero perché gli Stati Uniti come la Russia se guardiamo anche dall'altro lato hanno degli spazi aerei controllati dove appunto bisogna avvicinarsi per identificare qualsiasi oggetto che arriva senza transponder senza che questo risponda alle chiamate radio è ovvio che se un aereo si avvicina al tuo spazio aereo spazio aereo non si intende solo l'area verticale che abbiamo sopra la testa ma si estende per chilometri oltre i confini di stato è chiaro che se un aereo si avvicina non risponde alle chiamate radio non ha il transponder la prima cosa da fare è intercettarlo in Alaska esiste la DZ che è l'Air Defense Identification Zone dove appunto è una zona chiamata apposta area in cui si fa identificazione questo stava facendo l'F16 comunque come ho detto anche in un video precedente questi casi avvengono tantissime volte sono tanti e documentati qui abbiamo un F-22 qui abbiamo un altro F-22 qui un altro F-22 perché gli F-22 in genere si occupano anche di questo lavoro qui abbiamo degli Eurofighter e insomma questi pattugliatori marittimi russi rompono le scatole in continuazione andando a sconfinare e non solo vi faccio vedere questo video per appunto dimostrare quanto possono essere pericolosi i piloti russi in questo tipo di attività c'è il pilota di F-15 che si è avvicinato sempre per lo stesso scopo per scortare il pilota russo semplicemente vedete tenta di colliderlo di mandarlo via ora è chiaro che no questa è solo una spacconeria non ha nessun senso da un punto di vista militare semplicemente perché il combattimento aereo è un'altra cosa non funziona così a spallate e quindi anche per rispondere ai commenti precedenti se il pilota di F-16 avesse reagito alla provocazione in questo momento vedete qui bastava premere un bottone agganciare il Sukhoi-27 seguirlo qui avrebbe già potuto lanciare un missile che avrebbe falciato direttamente il Sukhoi-27 senza scampo se non un missile addirittura l'F-16 avrebbe potuto prenderlo a cannonate voglio dire vuoi spaventare qualcuno non ti metti davanti al suo muso non funziona così poi andiamo avanti allora eh no anzi vi mostro anche quest'altra interdizione da parte di Mirage francesi nel mar nel mar baltico ai danni un'intercettazione su dei su 35 questo è un bellissimo Mirage come quelli che si sta di cui si sta parlando in questi giorni che verranno dati all'Ucraina quindi vediamo fra l'altro ecco rispondo anche qui alcune alcuni interventi nei commenti per fare questo ruolo di polizia aerea non si parte stracarichi di missili in genere si parte in configurazione ferri cosa significa leggeri taniche e un paio di missili per il corto raggio perché questo è sufficiente nel ruolo di pattugliamento e polizia letteralmente il ruolo di polizia dello spazio aereo cioè poi immaginate come una volante della polizia non è che vanno in giro armati fino ai denti basta poco e quindi però comunque sono armati hanno il cannone e hanno due missili a corto raggio come lo erano anche gli aerei russi anzi per essere precisi e rispondere all'ennesimo commento andiamo a vedere di cosa stiamo parlando allora il Tupolev 95 intanto è un pattugliatore marittimo armato con siluri e boe e sensori che se sei una nazione che difende il tuo spazio il proprio spazio aereo non vuoi assolutamente che entri un oggetto del genere nel tuo spazio aereo e non è il benvenuto assolutamente immaginate non so un bombardiere russo pieno di siluri e boe e sensori che inizia a svolassare sopra l'italia non è una cosa bella di sicuro poi il Su-35 che gli vola accanto è armato con dei missili R-73 questa configurazione ferri quindi due missili a corto raggio e quindi era armato alle estremità all'aria dei jammer per la guerra elettronica e sotto le ali due missili R-73 questo ovviamente riduce il peso dell'aeroplano e ne dà maggiore autonomia quindi andiamo avanti allora anche in questo video vediamo le bravate questo del 2023 se ve lo ricordate è stata una bravata da parte di un aereo russo sopra il Mar Nero ai danni di un Predator un MK-9 credo che fosse un Predator l'aereo russo si avvicina fra l'altro immaginate questo aereo che è un jet pensato per volare a Mach 2 per poter volare in formazione non ci riesce perché questo drone americano vola tipo a 150 nodi qualcosa come 300 km orari giù di lì lui si avvicina cerca di volare in formazione e come vedete poi c'è uno zoom perché il Predator ha due o un Reaper quello che è ha due telecamere per poterlo inquadrare fa anche uno zoom si vede il pilota russo con due R77 questi sono i missili un po' l'equivalente dei A120 americani 120 B questa è una versione un po' migliorata dell'R77 che è un missile attivo non è a livello di un 120 americano però comunque è diciamo primo missile per il BVR russo attivo quindi arriva poi lo sorpassa e la telecamera frontale del drone riprende l'aero russo lanciare delle flare che poi lo danneggeranno ecco quindi l'MK9 fu danneggiato da questi lanci e atterrò con un'elica danneggiata credo ho precipitato non mi ricordo no riuscì ad atterrare sì notizia notiziona oggi Discord è stato bannato in Russia allora questo diciamo perché Discord non si è ha deciso di non sottostare alle leggi russe di conseguenza è stato bannato in Russia ok per chi non sapesse cos'è Discord è una piattaforma social per il gaming cioè per i videogiocatori cosa succede su questa piattaforma ci si ritrova si possono fare delle delle istanze si può parlare in tempo reale ci si possono scambiare video file si può vedere la diretta di qualcuno insomma è un po' come facebook o messenger vediamo una così però molto più interattivo e veniva usato in maniera massiccia dalle forze armate russe per coordinarsi addirittura per alcuni aggiornamenti sul volo dei droni per la comunicazione dei coordinati insomma è lo strumento fondamentale di comunicazione militare russo quindi immaginate le reazioni ora che il governo russo lo ha bannato ha causato il suo non utilizzo nelle forze armate lo vediamo utilizzarlo a più livelli tra l'altro vedete questa è una istanza discord dove appunto si trasmettevano video coordinate l'utilizzo dei droni avveniva attraverso discord e questo voglio dire è possibile si può fare attraverso questa piattaforma solo che ora non ce l'hanno più quindi ecco vedete tutti questi centri di comando facevano affidamento su discord ovviamente i blogger russi e le forze armate russe sono impazzite chiaramente non gli puoi togliere uno strumento così importante per il proprio coordinamento e di conseguenza sono sono impazziti ovviamente comunque è una buona notizia per noi fra l'altro pare che stiano ripiegando su un altro social simile a quello di discord è un software tedesco che si integra con un videogioco per bambini tipo mind block credo che sia ed è chiaro quindi che la germania a breve chiuderà i server per loro verrà bannato anche questo notiziona quindi allora andiamo avanti questo video me l'avevate chiesto qualche giorno fa ci propone uno yacht 52 che è un aereo d'addestramento ucraino che raggiunge e intercetta un drone russo e come? semplicemente in stile prima guerra mondiale il pilota pilota e il passeggero usa un fucile per abbattere il drone questa cosa giuro non si vedeva fare dalla prima guerra mondiale prima che venissero inventati i cosiddetti caccia gli aerei erano biposto il pilota pilotava e il passeggero sparava questa era la logica nel 1915 praticamente e comunque è un ruolo anche questo fondamentale per gli ucraini devono usare qualsiasi cosa come vedete in questa mappa vediamo i punti di partenza dei raid e dei droni che colpiscono l'ucraina dalle 21 e 30 alle 23 e 30 quelli in rosso vedete va per ore sono ondate su ondate ogni notte altra notizia interessante confermato l'arresto della linea di produzione del Sukhoi 57 allo stato attuale si segnalavano circa una ventina di questi aeroplani prodotti fino ad oggi 25 credo però di questi 25 bisogna considerare che 10 sono stati prototipi con problemi banchi di prova quindi non vanno considerati quindi da questi 25 io toglierei una decina per quanto riguarda la loro operatività è comunque ancora considerato un aereo in sperimentale quindi non operativo decisamente il motivo per cui ma questo si diceva già da mesi che la produzione di questo aereo sarebbe fermata il motivo è ovvio le componenti i motori i materiali compositi le elettroniche i russi non le possono costruire avevano bisogno prima del 2022 avevano bisogno di comprarle dall'europa da quelle aziende europee che hanno le capacità di produrli quindi senza di queste le sanzioni hanno colpito e quindi il suo 57 ciao ne proprio alcuni aggiornamenti brevi dal fronte allora non ho grossi cambiamenti se non alcune notizie semplicemente allora intanto l'azione degli ucraini nella regione di kursk ha ottenuto solo parzialmente un dirottamento delle forze russe nella regione infatti appunto ormai è chiaro che putin in realtà vuole spingere continuare a spingere a sud est nella zona orientale dove sta ottenendo i progressi eh alcuni progressi si vedono sempre nella regione di kurakove dove stanno spingendo sempre poi nella zona di vule dar come vedete c'è stato un consolidamento e poi l'altra azione importante che possiamo vedere è nella regione di kuktoresk ora questo vedete c'è stato un allargamento della loro zona di presenza e poi adesso lo vediamo nel dettaglio cosa è successo perché è drammatico nella zona di pescane qui avevo segnalato già giorni fa l'avanzata ucraina in questa zona eccola scusate questa in quest'area la zona di pescane allora cosa è successo da quello che ho sentito almeno poi verrà confermato domani sicuramente in questa zona gli ucraini sono riusciti ad arrestare la più imponente imponente avanzata russa della guerra letteralmente cioè hanno assembrato un'enorme quantità di mezzi e sono stati letteralmente distrutti dalle forze armate ucraine cioè è stato un massacro letteralmente quindi vediamo la quantità la quantità enorme di azioni nella regione di Vuledar come vedete comunque i russi avanzano al costo enorme di mezzi e uomini questo vi da un'idea della quantità di mezzi distrutti queste iconcine come vedete nella nella loro pressione verso Kurekova vedete quanto hanno perso in termini di ognuno di questi sono due giorni fa ieri questi mezzi sono stati raggiunti dai droni ucraini e colpiti e lasciati lì rottami che diventeranno rottami e quindi poi vedete per esempio a Toresk quanto è stata intensa ieri tutte queste icone sono geolocalizzazioni di ieri di droni ucraini guardate un'idea vi faccio vedere tutte giorno 8 stanno cercando in tutti i modi di arrestare l'avanzata su Toresk quindi le prossime icone spero di mostrarvi domani dovrebbero arrivare da qui da questa zona qui poi un'altra un altro deposito di munizioni è stato colpito seriamente nella regione di Belgorod anzi vicino Orel Akurachev Zumo così lo vediamo questo è il deposito di munizioni come vedete eh confermato qui in questo video si vedono le esplosioni e si sentono soprattutto il crepitio è tipico di munizionamento insomma che salta questo era il deposito quindi ottimo lavoro per concludere allora non vi posso mostrare questo video non credo perché verrà sicuramente demonetizzato però ecco questo che vediamo è la telecamera di un drone i piccoli droni e quelli esplosivi che entra in questa finestra vediamo se riesco a farvelo vedere entra in questa finestra fate caso e cosa trova? tac ve l'ho mostrato giusto per un attimo ok? sì è quello che pensate c'è un soldato russo anzi sono due allora diciamo che il mito del maschio alfa e della mascolinità va bene per la televisione russa però poi all'atto pratico come devo dire anche in guerra l'amore trova sempre una via ecco l'ho detto quindi questo drone ecco ha interrotto un breve momento fugace di romanticismo in mezzo a tanti orrori della guerra e non è l'unico fra l'altro perché su X se ne trovano tanti di momenti del genere insomma in qualche modo io non lo so se questo dipende dal fatto che ormai sempre più prigionieri delle carceri vengono mandati al fronte da parte russa per cui in qualche modo magari non lo so eh sto tirando a dominare avevano certe abitudini e quindi boh magari la solitudine non lo so insomma questo è quello che succede anche insomma nelle file russe quando vengono colpiti dai droni però ecco se posso dire una cosa almeno nel loro ultimo momento di vita ecco non erano soli possiamo dire così bene cari amici con questo è tutto non voglio lasciarvi con questa immagine quindi torniamo ecco a questo splendido black hawk e vi saluto fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate se non l'avete fatto iscrivetevi al canale come sempre un abbraccio alla prossima questo è tutto è è è è qui Grazie.